Buongiorno, scusate il ritardo per questa zuppa di poro del 23 settembre del 2019, sono stato un po' al telefono, pensate un po' voi che cosa singolare, con un ufficio stampa di una grandissima organizzazione imprenditoriale che mi diceva delle cose ma non voleva che fossero pubblicate, allora io dico ma se mi dici delle cose che non vuoi pubblicare che cosa mi hai telefonato a fare? Ma vorrei chiudere questa parentesi di qualche cosa che non potrò pubblicare e che non potrò dire, però insomma avete capito che mi ha fatto perdere un sacco e un mucchio di tempo peraltro nel giorno in cui c'è una trasmissione che si chiama Quarta Repubblica, questa sera alle 21.30 tutti collegati a Quarta Repubblica, ciao Eduard, ciao Piero e ciao anche tanti altri che adesso immagino si collegheranno anche su Instagram, ciao Michele, ciao Laura e c'è la libreria di Maggio, ciao a tutti quanti voi, che cosa è successo oggi sui giornali? Lo vediamo subito, la questione fondamentale, sembra ridicolo, è la tassa sulle merendine è successo che nei giorni scorsi il ministro dell'istruzione, che è un ministro del Movimento 5 Stelle che si chiama Fioramonti, propone una nuova tassa per le merendine, le bibite casate e i voli aerei e con questa tassa si sarebbe finanziato l'aumento degli stipendi dei professori della scuola questa tassa è stata proposta 4-5 giorni fa, poi c'è il Premier Conte che si presenta da Treiu domenica alla manifestazione organizzata sabato, scusatemi dalla Giorgia Meloni e a precisa domanda di, mi sembra Bruno Vespa lo intervistasse, capisci dagli intervistatori come funziona la dinamica dei giornalisti importanti anche per i ragazzi di Treiu per la Giorgia Meloni, Vespa e tutti gli altri, poi c'è Porro lì alla fine, io sono onorato di esserci andato allora cosa succede? Il punto fondamentale è che Conte dice sì alla tassa delle merendine bisogna fare la tassa sugli zuccheri, bisogna fare la tassa sugli aerei, dice bisogna fare queste tasse perché servono però non mi faccio dire troppo perché le devo mettere nella finanziaria questa è la risposta che dà il Premier Conte sulle tasse delle merendine se non che ieri e oggi c'è su tutti i giornali Di Maio dice ma noi siamo veramente il governo che deve ridurre le imposte non aumentarle e quindi oggi a buon conto i giornali nel riportare Di Maio sfida Conte ma nei pezzi dei giornali voglio dire forse manca un elemento anche se ci sono tantissime interpretazioni interessanti mi sembra sul Corriere della Sera dicono che Di Maio ha dovuto prendersi, qualcuno com'è che dice si è dovuto intestare il ruolo della Lega all'interno del governo cioè sono passati loro a essere quelli che non vogliono meno tasse vedrete saranno anche quelli più duri sull'immigrazione, spiegava questo articolo del Corriere della Sera il punto fondamentale è che Di Maio, ragioniamo tra di noi, siamo in tanti sia su Facebook sia su Instagram e sia sul sito nicolaporro.it, ragionando tra di noi quello che è successo è che il Ministro degli Esteri prima di volare a New York insieme a Conte come ci stimolano tutti i giornali per andare alla giornata dell'ambiente appena detto dopo due giorni che quello che dice il suo Ministro dell'istruzione è una minchiata e quello che dice il suo Presidente del Consiglio è una minchiata cioè il Ministro degli Esteri sta smettendo il suo Ministro del Movimento 5 Stelle e il suo Presidente del Consiglio questo mi sembra una cosa incredibile e cioè che politicamente ci ritroviamo con un Movimento 5 Stelle in cui il capo politico si sente, come dice il Corriere della Sera, Salvini e cerca di riportare giù le velleità tassatorie degli altri. Mentre c'era Di Maio che su una pagina di Facebook smentiva le nuove tasse, quindi tesi salviniana, tesi liberale, oserei dire perché io sono totalmente d'accordo ovviamente sul fatto che è una follia questa tassa sulle merendine, ma lasciamo perdere oggi mi sembra che ci sia sugli zuccheri, non è neanche un BB o un Bibo, ma c'è Andrea Guerra di Italy che si è convertito allo zucchero, ovviamente facendo l'amministratore delegato di Italy e poi c'è quello che fa le merendine biologiche di cui non mi ricordo il nome, me ne scuso sia con lui sia con voi che fa un'altra invece molto più interessante intervista dicendo sì noi dovremmo essere a favore delle tasse sullo zucchero perché noi cerchiamo di fare delle merendine bio sempre con meno zucchero eccetera, ma le tassazioni sullo zucchero non servono assolutamente a nulla totalmente d'accordo con lui, ma il punto divertente è che i giornali oggi testimoniano un'altra cosa sono belle anche retroscena e cioè che mentre Di Maio diceva queste cose ieri su Facebook Conte era alla manifestazione a Lecce, al teatro Apollo, di Landini, segretario della CGL molti di noi penso si sono dimenticati che il segretario della CGL non è più Lacamusso ma è Landini, era la FIOM e è diventato segretario della CGL e il titolo più giusto oggi c'è poco da fare, lo fa Repubblica buongiorno Narita, buongiorno Silvana, ciao Michele, e cioè ciao Miraldo, scusami e qual è il titolo della Repubblica? Conte CGL uniti nella lotta! Bravi! E chi si astiene è un gran fio? Diceva qualcun altro, mi sembra, a Roma ma lasciamolo perdere quello che si diceva il punto fondamentale, Conte CGL uniti nella lotta il geniale titolo di Repubblica e voi dite la lotta che è per la giustizia sapete su che cos'è la lotta? contro l'evasione fiscale complimenti, un'idea che c'era sfuggita che fosse una delle priorità di questo paese vorremmo prendere il professore della LUIS quello che ha cacciato Gervasoni, questo Fabbrini che ci spiega che la priorità dell'Italia è l'aumento della ricchezza degli italiani standing ovation per il censore di Gervasoni ma appunto, ritorniamo sulla questione fondamentale uniti nella lotta, Conte, il segretario del CGL sapete che ideona ci si sono messi? bisogna mettere in galera i grandi evasori allora, ma secondo voi ma secondo voi questo è il sistema anche se giusto ma questo è il sistema per aumentare e far ripartire questo paese? è questo il paese per far ripartire questo paese? io ve lo chiedo ve lo chiedo perché poi dopo io posso godere del ladro che va in galera godere dell'evasore che lo metti in galera a parte il fatto che è una cosa che sento negli ultimi vent'anni ma non risolvo il problema italiano ahimè rendendo anche perché quello che succede quando vi parlano di lotta all'evasione e alla fine vi rompono i coglioni scusatemi il termine francese con i vostri ISA con le vostre fatture elettroniche che sono cosa buona e giusta con tutta una serie di detentimenti burocratici che poi alla fine saranno commercialisti e voi piccole partite IVA o medie partite IVA dovrete fare cioè il titolo è lotta all'evasione manette agli evasori poi chi paga le conseguenze di questa roba sono tutti coloro che hanno un lavoro autonomo e che devono dichiarare i loro soldi che vengono considerati sempre e tu cur degli evasori insomma trovo fantastico l'altra cosa fantastica come ricordano tutte quante le cronache dell'incontro della CGL tra Conte a Lecce e Landini e che non avveniva dal 1996 che un presidente del consiglio si presentasse al congresso della CGL l'ultima volta fu con Prodi in questo caso tra l'altro con un format particolare notano su Repubblica in cui le domande dalla platea erano preparate non ci scandalizziamo perché comunque il presidente del consiglio una certa attenzione rispetto alle domande forse gliela si può porre comunque la cosa straordinaria è che mentre Di Maio fa lo sviluppista antitasse dall'altra abbiamo il cigellino presidente del consiglio Conte che dice citando Camilleri qualcuno è come l'acqua chi è che lo cita forse il Corriere della Sera è come l'acqua perché si adegua perfettamente alle forme cioè ai pubblici in cui si trova ultima cosa riguardo alla politica l'Umbria non ci crederete perché anche qui io ve lo dico con grandissima franchezza ve l'ho già fatto chiudete gli occhi e pensate soltanto a tre mesi fa pensate a tre mesi fa quando il consigliere regionale dell'Umbria detta la Davigo dell'Umbria scopriva con le lettere anonimi che arrivavano a centinaia in regione quello che faceva secondo l'accusa Catiuscia Marini e quello che facevano i suoi assessori alla sanità gente che prendeva le lettere dei concorsi e le dava ai loro amici per poter rispondere bene ai concorsi pubblici per fare i funzionari o i medici nella sanità ombra era soltanto alla punta di un iceberg di un sistema collaudato della sinistra che governava l'Umbria da sempre questa era la denuncia del Movimento 5 Stelle cade la giunta di Catiuscia Marini e che cosa succede? che il Movimento 5 Stelle fa una lista civica con il PD per eleggere come presidente quello che oggi i giornali individuano essere Bianconi ex presidente della Federal Berghi Umbra c'è un bellissimo re le chateau ve lo dico io a Norcia ha una bellissima azienda a Norcia quindi chapeau all'imprenditore Bianconi oggi intervistato da un po' di giornali che dice che è stato convinto da Franceschini ma anche con Di Maio un ottimo rapporto eccetera e che accetta dopo Federal Berghi di provare a fare la presidente della federazione Umbra il punto fondamentale che io segnalo a tutti quanti voi è che oggi avendo trovato il candidato si concretizza un'alleanza che soltanto a poche settimane fa voi potevate pensare che era inimmaginabile detto questo il candidato lo vedremo all'opera ha già fatto un'intervista su Repubblica sugli altri mi sembra un'intervista di un imprenditore di una persona per bene di uno che lavora di uno che è stato distrutto dalla mancanza di turismo a Norcia e da quel terremoto che nessuno ha ricostruito compresa la signora De Micheli sua diciamo commissaria con cui lui ebbe a che fare durante il terremoto insomma staremo a vedere quello che succede Umbria è un laboratorio fondamentale per le elezioni che vengono dopo oggi i giornali ne parlano a lungo il Corriere della Sera oggi ritorna su un'altra cosa e cioè sull'inchiesta che solo la verità raccontava nelle settimane scorse nei confronti di questo avvocato Bianchi vi racconto quello che dice il Corriere della Sera di oggi ovviamente Bianchi è il presidente della fondazione che finanziava la Leopolda cioè la grande manifestazione di Renzi lo ha fatto per otto anni consecutivi mi sembra che è stata finanziata questa Leopolda per otto milioni in otto anni consecutivi ci sta queste manifestazioni politiche inutile che ridiamo costano il punto fondamentale è che l'inchiesta della procura di Firenze si accorta che questo Bianchi ha ricevuto il suo studio in una particella di due milioni di euro per un contenzioso che aveva il gruppo Toto Autostrade Toto con Autostrade quelle di Castellucci questo contenzioso in realtà poi era riguardava anche l'ANAS che pubblica va bene? adesso vi sto facendo tutta questa storia per farvi capire Bianchi uomo di Renzi si occupa e difende i Toto che hanno un contenzioso sia con Autostrade sia con ANAS tutto normale perché un avvocato quello fa si occupa delle grandi imprese e le controlla alla fine questo Bianchi dei due milioni di particella 800.000 cioè quelle che aspettavano a lui le gira la fondazione di cui lui è presidente chiaro? la fondazione che paga la Leopolda quindi cosa succede? questa cosa per cui Toto paga Bianchi Bianchi riceve i 700.000 euro e poi li bonifica la fondazione in questo giro i procuratori ci vedono qualcosa di strano anche se io come sempre da garantista vi dico insomma se io voglio fare le cose in maniera opaca probabilmente non è che faccio questo giro di bonifici ma comunque questo avviere questa è l'ipotesi di accusa in più l'accusa dice una cosa molto simile a quella che contestavano a vi ricorderete quello che è stato praticamente impiccato ad Armando Siri e cioè il governo Gentiloni un anno dopo la caduta di Renzi approva un piccolo emendamento sconosciuto e più che bonifica o meglio che sana una situazione tra Anas e Toto per 120 milioni di euro vi è chiaro il ragionamento il non detto di questa inchiesta e poi vi lascio in pace l'Anas grazie a un emendamento non dà più 120 milioni a Toto Toto aveva pagato precedentemente l'avvocato Bianchi e l'avvocato Bianchi aveva pagato la Leopolda si sostiene che in questo giro ci sia un interesse dei Renziani che è diventato un emendamento dello Stato io non so quale sia la verità anzi la verità sa che dice in ogni caso che c'è una roba di traffico di influenza qualcosa di opaco però io dico che per molto di meno Siri gli hanno fatto un mazzo così a Bianchi lo stanno indagando ultima cosa è i vertici sull'immigrazione di cui ci occuperemo questa sera a Quarta Repubblica a Malta e beh insomma la Sarzanini oggi sul Corriere della Sera ci ricorda due cose e c'è che questi vertici che si fanno sono favolosi ogni volta fanno questi vertici sull'onda di un'emozione e ci ricorda come quattro anni fa fu fatto addirittura un vertice a Lampedusa dopo che morirono centinaia di persone nel canale della Sicilia e poi ci ricorda come quando si trovò il povero corpo di Alan Kurdi sulla spiaggia di Bodrum si disse mai più insomma l'Europa è fenomenale nel fare queste dichiarazioni di principio ma poi nella redistribuzione dei migranti economici è pari a zero vedremo oggi alle 12 finisce l'incontro dei ministri di interno a Malta alle 4 ci sarà un conferenza stampa se avranno portato avanti qualche cosa o se questo è l'ennesimo blef europeo di questo ne parleremo stasera ma il pezzo da Sarzanini già oggi pone la questione vediamo se questa volta oltre alle chiacchiere portano a casa qualcosa io direi che per il momento è tutto noi ci aggiorniamo nel corso della giornata vi ricordo come sempre pezzo di capezzone in questo momento sulla tassa delle merendine andatevelo a leggere sul sito e poi l'altra cosa straordinaria ovviamente come tutti lunedì sera quarta repubblica almeno spero lo sia ciao ciao